Grazie a tutti. Grazie a tutti. La sera vincerò sicuramente il premio Miss Bulgara. Noi siamo Tarzan e Zen. Abbiamo sentito parlare di questa bulgarata dalla giunga e non abbiamo resistito a non partecipare. L'italiano a noi ci ha imparato una signorina che si chiama Cristina, abita a Sant'Alcanzo, lo so, è vicino alla Canonica. Non è che parliamo molto bene l'italiano, però... Si dovete scusare. Si dovete scusare. Siamo venuti dalla giungla con il nostro coccodrillo perché qua ci han detto che sposi i nostri mezzi ecologici. E poi ci sono i vigili urbani fino a un granchè. Anzi, vedete che incappesse una massa. Gita, ci ha parlato bene di due individui. Pelo e un certo Piero. Chi sono questi due? Boh, ma secondo me sono quei due tipi là. Ma uno è questo qua, vostro... Ossia, poteva, madonna. L'ho toccato, è venuto subito. Prego, diamo. Ci dovrebbe essere qualcun altro, vero? Ci dovrebbe essere qualcun altro. Chi ci dovrebbe essere? Non dovrebbe partecipare anche il nostro tutor? Ah, è tutor! No, c'è una che... Non so, fa il tutor. Ma cosa vuoi dire, sto tutor? Boh, sarà un nuovo autovelox. Adesso vado a vedere nel computer di bordo il coccodrillo, ma secondo me l'è una parolazza. Comunque, è due giorni che non dò da mangiare il coccodrillo, perché così ha più grinta. Brava, Geni. Comunque me ne sono accorto, perché oggi quando gli ho fatto il pieno per venire oltre, ha cercato di mangiarmi un braccio. Comunque, morirete tutti. Sarete tutti affondati. Bravo! Bravo! Bella!